Salvini legge i giornali spagnoli? Qualcosa leggo? Ripeto, sarebbe facile per me alzare il dito e accusare, non lo faccio perché non ho prove, non ho elementi, se venisse provato che qualcuno è stato pagato da un regime sanguinario comunista sarebbe gravissimo, io però contesto PD e 5 Stelle per quello che non fanno al governo, non per eventuali accuse a differenza di altri, hanno infamato la Lega per anni sui soldi dall'estero che non esistevano, aspetto di vedere se è vero o non è vero.